A Daniele Portanova, ma non solo a lui, toccherà un pochino il compito di rovinare la festa di Di Natale, impedendogli di segnare il gol numero 100. Siete pronti alla missione? Ci proviamo, non sarà un compito sicuramente facile. Stimo Antonio, speriamo che lo può festeggiare la prossima settimana. O almeno che se segna vinciamo 1-2-1. Senti, è una giornata positiva anche dal punto di vista societario. Sono arrivate buone notizie, nuovi soci, l'aumento di capitali. Vi fa stare più tranquilli tutto questo? Sì, siamo tranquilli per il bene del Bologna che stanno facendo delle buone cose. Però a prescindere da questo il gruppo è sempre stato unito, con società e senza società. Con la società siamo ancora più forti. È anche vero che oggi ci aspetta una partita difficilissima e speriamo di regalare ancora delle gioie ai tifosi.